A seguito delle recenti vicende che hanno messo al centro dell'attenzione il tema delle strade della viabilità cittadina riguardanti la chiusura di accesso al blocco autostradale creando diversi disagi di circolazione per gli utenti della strada, il Circolo Nuova Fano si interroga su un'altra questione riguardante la nuova bretella stradale prevista nel progetto di viabilità dei lavori compensativi che della nuova rotatoria della Flaminia collega i quartieri di Rosciano e Bellocchi. Allora noi dopo le cadute che abbiamo visto di questa amministrazione in merito alle asfaltature da rifare, in merito all'autostrada che è stata chiusa e quindi non erano avvisati e poi la società autostrade ha detto che comunque il sindaco e l'assessore erano stati avvisati in tempo e ci siamo insospettiti del fatto che anche questa arteria rimanendo sempre in tema di strade terminata ormai da circa un paio di mesi non venisse ancora inaugurata, questa amministrazione ha una grande fretta di tagliare i nastri e questa cosa ci ha fatto porre delle domande. Siamo venuti sul posto, abbiamo dato uno sguardo, ci siamo informati e le domande sono arrivate per certi versi. C'è una legge che sancisce il nuovo codice della strada che è l'articolo 285 dove all'articolo 2,1 prevede che le costruzioni di strade con definizione locale, quindi urbana e asturbana, debbano essere provviste di percorsi pedonali e di aree di sosta di urgenza. Noi su questa strada non vediamo percorsi pedonali e non vediamo aree di sosta di urgenza, tra l'altro se si fa una bretella come questa che deve raggiungere abitazioni e luoghi di Fano in maniera più veloce, se uno ci vuole andare in bicicletta o a piedi è costretto invece a prendere la macchina, quindi questo ci sembra molto illogico, quindi chiaramente la domanda e il sospetto ci è venuto, quindi noi chiediamo al sindaco delle spiegazioni per quale motivo questa bretella ancora non è stata aperta, se è veritiero che ci sono problemi legati al collaudo che non viene passato per i motivi che noi abbiamo in questo momento spiegato e quindi ci aspettiamo una risposta sia da lui sia dall'assessore eventualmente preposto che credo che sia l'assessore Fanesi.